Proseguono nel porto di Molfetta le operazioni di bonifica dagli ordigni bellici. Nella giornata odierna diverse sono state le bombe trasferite e fatte brillare poi in una cava nelle campagne di Corato. I palombari dei nuclei subacquei ed incursori della marina militare infatti sono intervenuti nel porto di Molfetta sin dall'inizio dell'anno, dove hanno identificato e rimosso 53 ordigni consegnati poi agli artificieri. Dell'undicesimo reggimento guastatore di Foggia dell'esercito per la successiva distruzione. Distruzione avvenuta proprio oggi con un trasporto eccezionale organizzato da Molfetta a Corato e che ha destato non poca curiosità anche sulle vie percorse. Attivato nella città di Molfetta, il centro operativo comunale per coordinare le operazioni partite presto in mattinate e terminate poco dopo le 11 presso la cava Coratina. Una colonna di mezzi tra cui esercito, carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco coinvolte anche le polizie locali di Molfetta, Bicelli e Corato per consentire un passaggio privilegiato ai mezzi.